Ben ritornati viaggiatori intrepidi e benvenuti nel magico mondo di Trine 2. Ben ritornati alla nuova puntata di Trine 2, passando attraverso le zanne della bestia. Ora siamo all'interno di un vermone gigantesco con i denti assurdi. Dobbiamo cercare di uscire o risalendo dalla bocca o trovando un'altra strada. Spero che non troviamo l'altra strada. Sarebbe spiacevole per me quanto per voi. Là! Ecco fatto. Mo! Mamma mia che schifo. Fammi passare. Lo schifo. Lo schifo. Traballa tutto! Tutto si muove. Che schifo. Mamma mia. Vabbè, qua. To. Magna quello. Magna quello. Ciao. E mo? Come passo oltre? Mamma mia. No! Non ci voglio credere. Questa è una leva. Oh, madonna. Non ci voglio credere. È una leva. Vabbè. Accettiamolo per fede. Lo da fare si apre molto lentamente. E intanto. Mumie e goblin. Mezze mangiate. Mezze divorate. Mezze digerite. Mezze tutto. Anche mezze vive. Mi sono dimenticato i tentacoloni. Permesso? Oh, ma no. Dici che sta andando a qualche parte. Mamma mia. Non vedo un accidente. No, queste. Vedo una pippa. Ah, non sono familiare con l'anatomia vermosa. No. 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 Sta su e sta buono. No. Non di là. No. 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 Maledizione sta lingua. No. Ah, no. Ah, che schifo. Ah. Il pavimento è troppo basso. Il soffitto è troppo basso. Vai, mettele a posto. Non è un pavimento. È lo stomaco del tipo. Che schifo. Ci ho ripensato. Oh, mamma mia. No. Rimbalzare, no. Rimbalzare è brutto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che succede mo'? Oh, mamma. Posso camminare sopra a morire? Ci posso morire? Oh, mia, si rilassa anche. No, 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 no. Non facciamo sciocchezze, eh. Non facciamo sciocchezze. Posso camminare sopra sti affari? Quindi posso camminare sopra sti affari? Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Oh, oh. Perché adesso è verde? No. Non è un bel suolo. Mumie? Qui? Al buio? Finita, no? Basta. Ok? Buono. Ora. Lasciami costruire la mia torre sbilenca su un affare ancora più sbilenco. No, manca uno sbitch. Manca uno sbitch. Wow. Chissà perché non ce l'avevo mai pensato. E io mi faccio tutto il livello così. Guarda che roba. Eccola qua. Così ti voglio. No. Torna su. Torna su. Torna su. Torna su. No. Non facciamo scherzi, eh. Torna su. Ma guarda che... Sei un burlone. E tu dimmi, ha i succhi gastrici esattamente dove ha il cuore? Perché se quello è il cuore, e quelli sono i succhi gastrici, il tipo sta parecchio male. Oh, c'è qualcosa là sopra. Ho visto. Trucco. Niente. Quasi però. Cosa ho combinato? Oh no. Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Si è morto, come si ha guardato la storia di sua esposa nelle mani dei goblini. Con i trini ancora perdono, dovrebbero trovare Margarete per loro. Ah, fresco, caldo, alla fine! Il King Meese ora ha una base su Claudia Iles Perché non siamo qui? Siamo statti qui nel cold Stiamo cercando di stupido metal È per la grande macchina Che prenderà le città umane Scusate Chi va là? Ponzius sei un genio Grazie per averci faccio scoprire Siamo finalmente usciti dal vermone Grazie a un suo rigurgito Spero che il video vi sia piaciuto Spero che vi abbia divertito Ci vediamo in una prossima puntata di Train 2 Ciao a tutti Sì, nuovo livello Nuovo livello Andiamo al checkpoint È nuovo livello Con 4 punti Magnetizzazione del metallo Può affinare la sua potente magia e vocazione Magnetizzare gli oggetti evocati In modo che si attacchino agli oggetti di metallo Bello Che figata Flying workshop Allora Allora